Dopo un silenzio di diversi mesi è tornato a parlare in una conferenza stampa l'ex assessore regionale dei seguiti sociali dell'Udc Aldo Forte. L'ha fatto nella duplice veste di politico e soprattutto di figlio dell'ex sindaco di Formia Michele Forte che nell'ambito dell'inchiesta del sistema Formia era considerato il regista dal 2008 al 2012 di una commissione tra politica, imprenditoria e burocrazia in grado di gestire al comune a parte incariche e concessioni. Questo teorema è rimasto in piedi fino a lunedì quando il gruppo del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone rinviando sia giudizio 13 persone non ha riconosciuto al termine dell'udienza preliminare l'associazione a delinquere per alcune degli indagati e tra questi c'era proprio l'ex sindaco Forte scompasso prematuramente lo scorso settembre. Insomma per l'ex assessore regionale Formia non era governata da una copola, non era una città da liberare. Non essendoci in associazione a delinquere crolla l'impianto accusatorio così come era stato costruito, cioè che c'era il sindaco Michele Forte a capo di una cupola con altri amministratori, dirigenti e funzionari comunali che gestiva il comune per ottenere chissà quali obiettivi scopi illeciti. Mio padre sarebbe stato molto contento oggi perché si sarebbe voluto difendere nel processo. Il gruppo Bortone ha prosciolto soltanto 5 dei 18 indagati e tra questi un solo politico, Antonio Di Rocco, l'ex capo cabinetto del comune di Formia e attuale consigliere dei centristi per Formia. È stata la fine di un incubo durato tre anni. Sentirsi accuse così pesanti fa male, fa male per sé e fa male per la propria famiglia.